Da una parte una destra estremista e dall'altro i nostalgici del governo Draghi che vogliono abolire il reddito di cittadinanza e aprire al nucleare agli inceneritori. Il Movimento 5 Stelle è il campo giusto, che mette al centro il salario minimo a 9 euro, lo stop al precariato, misure concrete per famiglie e imprese, lo sblocco dei crediti del super bonus.